allora signori il video che tra non molto stavo finendo di editare e comunque vedrete no? è un video che diciamo che di dimostrazione che ho fatto allora diciamo come è partito il tutto questo fatto io sui social dalla parte lessi di una signorina vegana che stava tentando di far diventare vegani pure i suoi animali cioè non so se erano i suoi comunque stava tentando di fare questa cosa qua signori allora partiamo dal fatto che tutti quanti noi bene o male possiamo no partiamo ancora prima dal fatto che sto fatto di vegano non vegano signori il nostro corpo il nostro come quello degli animali qualsiasi corpo no? non sta a guardare se è quello che si ingozza da che cosa deriva che cosa sia no perché ci stanno certi animali ma io sto parlando di animali quello con la cuda eh non sto parlando di tipo di persone che si comportano come un animale comunque ci sono certi animali ma pure le persone normali no? che si mangiano pure a terra tanto per farvi capire si mangiano vari tipi di argille perché sempre per vari tipi di come cavolo si chiama per vari tipi di utilizzi perché signori un'alimentazione è tutto quello che interscambi con il resto del mondo tanto per farvi capire pure il respiro è un tipo di alimentazione e l'alimentazione è a gas appunto come macchinetto che ne so pure quanto sudi quanto ti respira la pelle pure quella è un tipo di alimentazione perché pure quella ti fa interscambiare con il resto cioè ti fa interscambiare le cellule del tuo corpo con il resto dell'ambiente andando un po' a restringere no? diciamo che quello che uno si ingozza dal buco della bocca buco tentato no? e che poi solitamente sperita con l'altro buco allora parliamo di questo no? il corpo mio come quello di tanti altri non sta a guardare che ne so che se sei ingozzato che ne so della pasta oppure che ne so si è ingozzato che ne so gli è andata a finire un po' con il polvere che ne so fortunatamente si è pigliato pure un pezzo di carta di quello di genere che si è ingoziato quando per esempio stava mangiando un cioccolatino che si oh cacchio mi sono mangiato pure la carta il mio corpo quello che ci butto dentro no? piglia e lo elabora comunque è come quando metti la mano dentro alla pressa no? al resto se ne frega che la mano toglie ah mi piace mazzo comunque allora non andando a sto fatto qua allora questa signorina vegana facendoci stendendo di cioè no no stavo ancora parlando di una cosa allora i corpi non vedono la differenza tra vegano e nonno no ma per poter campare cosa qua no? un corpo solitamente ha bisogno per esempio noi esseri umani come può essere che so pure il gatto il cane cioè questo tipo di animali qua no? più che altro hanno bisogno di di energia e di molecole per potersi rinnovare perché se mi faccio un graffio quello là prima o poi se andassene via e allora per potersi andassene via il mio corpo ha bisogno di nuovo materiale per poter suturare quel graffio e compagnia bella per poter rinnovare tutto quanto tipo ad esempio le mie cellule le cose perché le cellule non sono infinite arrivato a un certo punto la cellula vecchia muore la nuova che pigli sto posto magari sarà la figlia o no deve fare le cose che faceva la cellula prima comunque ci si rinnova allora per rinnovarsi abbiamo bisogno per forza di alimentarci perché in parte ci alimentiamo con le stesse scarti nostri perché una cellula mai è morta però c'è ancora i pezzi buoni perché non li pigliamo è come quando si pigliano gli organi da qualcuno che non gli servono più comunque quello di allora tornando a fare allora per poter mangiare per poter stare al meglio noi abbiamo bisogno di vari tipi di cose più mangiamo variate meglio è ecco qua che stiamo andando nell'assringere molte persone per motivi per una cosa o per un'altra o perché gli fa male proprio fisicamente gli fa proprio male non può perché è intollerante perché che caspino oppure perché non c'ha voglia di che so uno pensa no povero animale non voglio campare sapendo che quell'animale è morto per colpa della mia ecco qua chi non capisce il dialetto napoletano non ci può spavolire essere niente allora tornando al fatto o per ragioni proprio fisiche o per ragioni morali uno non vuole non mangia certi tipi di alimenti allora si può continuare a campare lo stesso certo che si può continuare a campare lo stesso basta che fai ragionare il cervello signori allora il cervello forse il cervello le cellule neurali sì vabbè forse sono la cosa migliore che ci è mai capitata nella nostra schifosa esistenza facciamoli lavorare è una risorsa fruttiamola allora ma gli esseri umani hanno trovato il sistema per poter guardate che la roba vegana è pure quella buona no? quella malamente è pure più economica eh per farvi capire ma tornando al fatto qua beh ecco qua noi gli esseri umani possono cambiare benissimo come dei vegani e cosa anche senza far fuori la voglio dirvi una cosa pure le piante soffrono quando ci dai la morte tutti soffrono la morte tutti dovete morire eh pure io mannaggia la miseria ah boh vabbè che li so altri argomenti comunque allora tornando al fatto qua allora signori noi abbiamo si è visto che gli esseri umani possono mangiare già vegani per i fatti loro ma guardate che nel mondo la maggior parte delle persone è già prevalentemente vegana perché vedete la carne in sé per sé no a meno che non ti mangi il tuo vicino di casa è cioè la cosa perché bene o male costa più di tutti quanti e non tutti se la possono permettere nel primo secondo mondo no dove le cose diciamo che in teoria dovesse andare un poco meglio molti eh se la permettono sta cosa eh la cioè si può emettere sempre di più carne però non bisogna abusarne ecco perché se uno si abusa poi vengono certe patologie che proprio eh dove caccia si spende stu cosa poi non ti vuole se spende non è appiccita stu cosa non so anche chi ti vuole ecco se si abusa dopo eh finissima mente allora io sono veramente vegano crudista ma non tanto perché mi fa pena chi lo può rabece cose ma perché io posso pensare a far fuori la barbascura tanto e farvi capire no ah ah ad ampartate tanto io con loro devo seguire la dieta del gruppo sanguigno nel senso che io devo sapere che gruppo sanguigno sia barbascura che gruppo sanguigno sia ad ampartate no perché seguendo l'idea del gruppo sanguigno no dovete quale le due fa fuori per primo vabbè ma mica lo faccio subito faccia aspettare un pochettino povero barbone vabbè sono tutti i due barbacapelluti i cyberpunk a bestia tornando a fare una cosa qua stingiamo siamo un poco seri nel buonavolta come allora questo video ce lo vorrei tanto postare alla fidanzata loro capitale perché lei è dietista dice di essere ci sta provando il simbolo di barba scura no quello è il teschio con le due osse no quello deve essere il primo paziente della signorina essendo di visto è così che ti fa diventare cosa allora 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 gli esseri mai si è visto comunque che possono uscire a mangiare a campare pure senza dover mangiare per forza la carne è un dato rifatto possono riuscire a campare pure mangiando solo roba vegana a poco prezzo e questo è pure un dato rifatto perché non c'è bisogno di andare a mangiare per forza che ne so da queste parti le bocche di gogi marron stanno pieni e roba buona accadono e andiamo a far venire la roba da parte del mondo cioè vabbè comunque allora gli esseri mai si è visto di fare così ma gli altri animali possono fare la stessa cosa come facciamo noi sì certo che si può fare perché signori ora voglio farvi capire un animale per qualunque cosa esso sia bene o mai si comporta come un essere umano cioè per certi aspetti è proprio la stessa cosa proprio proprio e e allora proprio perché è proprio la stessa cosa come siamo diventati possiamo essere vegani completamente noi possiamo essere vegani pure completamente loro danno a farvi capire allora ci sta rifatto che molti scienziatucoli da tastiera no vanno sono come quelle macchine cioè ci sta la curva a destra però ci sta il cartello che dice andare sempre dritto no no e esce fuori in strada ecco quelli sono i scienziatucoli da tastiera ma a sta signorina che ha provato a fare questa cosa qua no vai un po' perché è una femminista tossica ma non è per colpa la soglia no signori questa qui da giovane ha perso il papà e allora non ha saputo trovare altri figuri di riferimento lei si è avvicinata lei proprio ingenua le si è avvicinata una più vecchia di lei più femminista tossica di lei e lei ha fatto cambiare la capa e allora qualsiasi altra cosa vede ha incominciato a dargli conto alla religione cattolica tutto il religioso tutto manda la stessa cosa dicono sempre noi siamo i buoni i più cazzuti i cazzi non mancano niente quello serve per fatti disumanizzare quello che c'è contro in modo che lo cionchi senza pensarci nemmeno ecco qua veramente quelli che profetizzano la religione dicono sempre ama il tuo prossimo poi ci stanno quelli che fanno cioè quelli che fanno la religione poi ci stanno quelli che si dicono di fare il profeta dicono no no cioè cambia tutta mi dispiace ma la gente si odia sempre e si vede che l'odio è una cosa l'odio però signori guardate è solo cioè lo provano soltanto le persone povere di cervello perché abbiamo un universo da conquistare se visto che non ci stanno altri popoli in altre parti allora è tutto nostro su quello dobbiamo andare allora tornando a fare le cose qua allora sta signorina perché era pure un po' una femminista tossica signorina vita le hanno fatte una capatante che doveva essere si sbagliata ma quella a pescindere si cosa solo perché voleva provare a far diventare i gatti vegani cioè gli animali vegani ma io ci sono ci sono riuscito con i gattacci che in questo diciamo un anno perché questo un po' l'ho fatto l'altro giorno un po' l'ho fatto tanto tempo fa un altro po' l'ho fatto ancora più tempo fa comunque con un po' di tempo come si chiama sono riuscito a fare il suo caspito di filmato tanto per farvi capire che pure cose come i gatti possono diventare benissimo vegani cioè perché vi ho detto che loro non stanno neanche a guardare loro non si fanno cose come i gatti non stanno a guardare stanno a fare tutti questi pregiudizi questi pregiudizi stanno stando nella mente di esseri umani praticamente o gatto mangi una cosa l'assaggi è buono si e metti in bocca e basta non ti piace lascia bene no perché non tanti per farvi capire tanti di quelle volte che ne so un un cavolo cioè i gatti che spigliano la preda se la masticano un po' e la rimangono là per terra cioè anche se la mancano poi si può andare a mangiare l'euro l'erba l'euro l'euro se lo mangiano comunque quello l'erba di pane vabbè allora ora vi faccio vedere quello lì che abbiamo fatto comunque signori tant'è per farvi capire no quando dal macellaio solitamente va dal macellaio no e si va a pigliare come che si chiama quello che fa il cioè il il pezzo da mangiare no solitamente si va sempre a prendere sempre il solito pezzo una volta c'era più mannaggia la miseria è così che si ripara di televisore allora una volta c'era la gente si mangiava di tutto che so di un animale ma la gente proprio perché diventava un po' confiziata vuole sempre soltanto quello anzi guardate che la maggior parte delle persone no non vuole manco più che ne so la fette di prosciutto vabbè tipo la bistecca vuole i viustel per farvi capire no i viustel sono carne tritata magari ci vorrebbe essere chissà che cosa di tritato lì dentro no però lo pigli ci metti le spezie buone e te lo metti in bocca ma chi se ne futta signori vabbè comunque signori danno a farvi capire quando uno comunque va dal macellaio vuole sempre le stesse cose ma tutti gli scarti o vanno a finire il viustel del giorno dopo manco fosse biscotta alla marena no il biscotto alla marena è praticamente tutto quello lì che non sei riuscito a vendere il giorno prima che poi l'hanno ripigliato l'hanno imbastato e hanno fatto il biscotto alla marena il giorno dopo ma non è una cosa cattiva in fin dei conti è così che va nel mondo quello che non si riesce a vendere è che proprio non ci puoi fare neanche più il viustel che poi non ci puoi fare neanche più la mortadella non ci puoi fare neanche più un cavolo alla fine dei conti che fa finisce a fare le farine di origine animali e quali vengono andate tipo negli allevamenti per fatti crescere un vitello cioè un vitello che ci vuole che ne so anni negli allevamenti te lo fanno diventare praticamente che diventa non è più non è più cosa cioè in pochi mesi ti diventa un vitellone gigante che solitamente ci mette anni a diventare proprio pure grazie alle farine di origine animale poi quello che non riesci a fare con le farine di origine animale lo pigli lo fai diventare concime e ci concimi le piante che poi ti mangi è un ciclo perverso un ciclo continuo un ciclo ligno allora comunque io qua faccio vedere che comunque perché tu non sai per esempio questo pezzo di pasta qua no la storia di questo pezzo di pasta qua quale mai sia stata comunque signori banda alle ciance io mo monto sto video e spero che la gente si so guardi vabbè stacco qua perché se no è diventato troppo lungo la gente manco so verbi tanti saluti e voi domani ah dopo eh vabbè io che ho fatto quando l'ho montato piacere guardate non voglio volete guardare non voglio guardare sta la rabella là fuori andate a fare la rabella tanto 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 l'ho fatto ciao e vota omar eh vota omar eh se no fate un giro coppa al canale che abbiamo già gattitato questa marca no eh no eh appunto non capisco perché su coppa sti social sono tanti i buffoni diventano i buffoni diventano i buffoni a faccia e padone scaurato sono tanti i buffoni mannaggia e che cacchio ecco qua eh devo beccarmi la cosa in qualche maniera ecco su tanti i buffoni diventano diventano chissà chi o che cosa comunque allora vabbè stacca tante qualsiasi cosa nasi bing signori guardate che quello che si dice in tassi cose può essere utilizzato quando vivo in tribunale eh a farvi capire vabbè tanti saluti facciamo fare attenzione alle cose che dite eh tanti saluti e vota omar m'zzasacca questi risi se lo mangiano pure così crudo senza niente però non tutti eh tipo patagonzo non se lo mangia lo hanno assaggiato un po' a chi ci piace ci piace a chi non gli piace non gli piace ma devo provare a mettere qualche cosa in mio dentro riesce forse sto stando mangiando un po' un po' difficile da fare tutto lo so vediamo vediamo se così mi piace è è la cosa di pagione allora il liquido di governo se lo mangiano pure pure il riso normale così si mangiano i fagioli allora torno più tardi questi qui sono i fagioli borlotti non sei non sei non mangiare la metà fuoco più tardi vengo a vedere se sono mangiato oppure prova numero uno allora vediamo un poco un poco se la sono mangiata non c'è rimasto quasi nulla qua qualche cosa così eh sì perché allora i fagioli borlotti hanno un sapore un po' forte rispetto tipo ai cannellini qualche altro fagiolo così oppure i ceci diciamo no la prossima volta proprio giusto con i fagioli cannellini e ancora un'altra volta però con i ceci per mo andiamoci a mangiare così cani saluti non è coronavirus allora signor sto cercando di dare diventare i miei gatti vegani questo è il secondo round stavolta ci diamo sempre il riso con lenticchie eh devo riuscire a fare tutto quando con una mano sola tutto in diretta qui un po' di viso mazza stanno mangiando già così era solo un moco sporco di succo di lenticchie però mi sa che basta e avanza l'esperimento l'esperimento si può fino alla fine no 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 ecco qua gli alurei gicchie per se mangiare se mangiare se mangiare dici datemi una calmata ma perché se queste qua vengono a costare di meno di croccantini no di croccantini e delle scatolette ben venga perché poi signori guardate i gatti non possono fare soltanto la dieta chetogenica cioè solo a mangiarsi carne e quella specie di liquido liquido di governo non è l'acquafava quello con cui fanno il liquido di governo con le scatolette e comunque roba vegetale stanno scritti gli ingredienti questo qui è tutta sicuramente tutta roba vegana perché il riso che mangio io con le lenticchie tutta roba vegana vengono concimati oppure con come si chiama con le farine di origine animale perché quelle sono piene di azoto e l'azoto fa crescere le piante però per quanto riguarda il resto è vegano io vabbè che è un vero uno che studia queste cose studia va bene studia si impara queste cose no capisce che alla fine dei conti non è che cambia poi tanto tra vegetale come si chiama animale funghi come si chiama persino le pietre ma molto più di quello che pensassi devo andare andate a vedere se dall'altra parte ci stanno alte carte perché è arrivato il signore qua ha detto che ce ne mancavano alcune molto probabilmente sono andate a finire da quell'altra parte devo andare a vedere più tardi vengo qua e vedo quando ce ne è rimasto così vediamo pure se si mangia il riso si sono mangiato abbastanza e altre cose c'avevano pure le lenticchie un po' cosa si sono mangiando vabbè più che altro penso che si sono mangiati il liquido perché qui ci stava ancora il liquido di copera questa è l'acqua fava acqua salata con il residuo del sta zanzare l'acqua salata con il residuo del legume calenticchie ritorno noti a poco per vedere quanto c'è rimasto non posso stare consumando un sacco di memoria comunque fidatevi io non mi metto a mangiarmelo potevo mangiarmelo prima perché questo è il cibo mio mi sono levato di bocca per dargli all'ora comunque io non faccio cavolate tipo fregature se se lo mangio se lo mangio se non se lo mangiano sto video non escerà mai buona volta sanatore saluto e a più tardi magna magna sta mangiando pure questo qua che solitamente se ne scappa ogni volta che vengo io guarda già si è messo sull'allerta principessa tu non mangi a più tardi allora signori si sono mangiati tutto cosa guarda signor vi posso assicurare che non me lo sono mangiati io non siete mangiati nessun altro non le ho buttate perché io non esprievo il cibo si sono mangiati tutto cosa ci rimasto qualche piccolo riso per terra però comunque guarda Patonzo sta continuando a leccare cose là ora però ci devo dare un po' con i croccantini perché devo andare a controllare gli altri dall'altra parte è meo comunque come esperimento possiamo dire che è riuscito questi gatti possono diventare benissimo dei vegani perché mangiano comunque ora uscidiamo i croccantini e andiamo alla prossima round 3 fight allora questo qui è il turno dei se riesco a mettere a fuoco dei fagioli cannellini sempre con il riso ora devo provare a dargli questo qua con i fagioli cannellini ecco se ci riesco buonissimi metto solo ecco qua bici datemi una calmata un attimo fatemi rigirare un poco in modo che si tanto mai si è visto che da solo il riso se lo mangiano dire che ti rigira eccoci qua bici me lo sto levando di bocca buono buono bici giù signori quando fanno vuol dire che è buono patatoni tu sai c'hai il gusto troppo difficile eh si si ci sono cascati pure i fagioli perdendo tanto io ritorno tra un poco un attimo che sto facendo l'opera di beneficenza ma perché devo mangiare solo mangiamo insieme no non ci sei pure tu eh eccola la no eccola non mangiare la miseria non fa eccola la cioè io ho dato il mio mangiare a voi ma vi rendete conto eh vabbè che siamo tutti amici che abbiamo bisogno amici che siamo tutte cose però che caspita quella è la destinata a me non mi guardiamo con lo sguardo tu eh guarda come se lo mangio eh amici non lo fate sprecato perché il cibo non si spreca mmm mmm è buono aspetta che abbiamo finito di mangiare loro vabbè li vanno più tardi vedi come è andata la situazione ci vuole mettere un paio di fagioli di fagioli no fagioli ecco qua metti un po' di liquido con i coperni fagioli magna dici mangiati perché io questo qua lo pago eh così ti dimostriamo a tutti quanti che un animale che i scienziatù con lui la tastiera ritengono carnivoro può benissimo diventare erbi erbi vegano se la tosse non mi ammazza perché questo non è il coronavirus perché io ho sempre avuto la tosse se la tosse non mi ammazza io devo dimostrare alla gente pure la tecnologia del morso no perché così almeno faccio vedere le cose così almeno la gente finisce di fare filosofie ma stacchiamo a dopo non è il coronavirus signori bene o male passano un po' di tempo essi sono mangiati abbastanza qualche fagiolo l'hanno rimasto là qualche cosa signori le venticchie hanno fatto proprio chi fa mangiassi sinceramente parlando vabbè come terzo rondo va bene non è perché questi si stanno a mangiare adesso si mette a mangiare quest'altro e comunque dice è la voce mette di un po' di maroni comunque bene o male se no me posso assicurare che non ci ho aggiunto niente tanti di questi cose sto facendo per far vedere che si può fare cioè cosa qua perché questi costano molto di meno vabbè le parole ne facciamo una volta intanto farvi capire no sta funzionando me ti ho detto non ci aggiungo niente signori mi vorrei far capire una piccola cosa solitamente il padrone mi ha detto il padrone quello che mi dà una mano mi ha detto di tagli queste cose qua questi qua di paga lui non li pago io io so benissimo che i fagioli sono una delle cose che costano meno di tutti quanti se la voglio ci esiste a parte l'erba si intende comunque il rispud è una cosa che costa una delle cose che costa meno di tutti quanti dai vieni pure a mangiare giù questo qui è soltanto per riuscire a risparmiare il più possibile siccome il pappone della madonna santa proprio quello lì dei cani non lo vogliono è difficile che si mangiano però questo qua non è vero male se lo stanno continuando a mangiare proprio perché se lo sto arrivando volevo farvi capire una cosa quello là è fatto per produrre quelle cose la ci si buttano più soldi sopra rispetto a produrre una scatoletta di legumi farvi capire lì ci sta sicuramente l'acqua è salata casimai poi le leggo pure le cose stanno là mi sono conservato due etichette lì ci sta l'acqua salata qui pure ci sta l'acqua salata stai laggiù chi sei tu ah è quell'altro eh bene tornando a finiti quello lì ehm ehm che è quello bene o male ehm costa di più però quello la vedete è tutto scarti di macelleria quella no perché uno quando va dal macellario solitamente che cerca i soliti quattro pezzi perché solitamente la gente manco vuole più cucinare non vuole più sputare il sangue sopra i fornelli allora che fa si fissa soltanto su quei quattro pezzi che solitamente ma il resto dell'animale perché è un animale gigantesco tipo avac che ne so vabbè pure il pollo farvi capire no poi tutti quanti sempre le stesse cose no il resto dell'animale che se le fa ne è possibile cioè abbiamo speso i soldi sopra per rallevare allora che fanno non ci fanno gli scarti di macelleria gli scarti di macelleria di polveria e ci fanno queste cose qua tanto a farvi capire vuoi entrare pure tu tu sei sempre di disgusti difficile eh patonzo eh comunque finendoci non so manco quando a memoria c'è rimasta la falca comunque tornando a fare cosa o là allora gli scarti cioè il resto dell'animale che non viene usato per queste cose qua va a finire a fare queste scatolette qua e se non va a finire a fare queste scatolette qua ci sta va a finire a fare a concimare la terra perché lo utilizzo il resto del povero animale lo utilizzo come fertilizzante cioè poi fate conto tipo una vacca un cavallo diventano grandi pure per fare con le farine di origine animale però solitamente posso diventare grandi pure soltanto mangiando l'erba ecco vabbè doveva fare la pena come terzo round riuscito vai no vai alla prossima signori eccoci qui riuniti per il quarto round stavolta tocca ai fagioli bianchi di spagna signori questi tipi di fagioli qua l'estate eh questi tipi di fagioli qua no che hanno cioè sono tipi di fagioli un poco meno conosciuti rispetto agli altri legumi che solitamente vendono per esempio i legumi più famosi sono i cannellini i come cavolo si chiama con l'altro i borlotti che dalle figure sembrano bianche con le strisce marroni no però nella realtà sono proprio marroni poi ci stanno che ne so che ho detto prima i cannellini i borlotti le rendicchie i ceci e i piselli i piselli già lo feci una volta che poi metterlo in descrizione e poi che altro ci stanno tanto importante i ceci i ricchi i piselli che ha già detto queste qua comunque sono questi questi bianchi di spagna comunque no sono poco conosciuti e molte persone non le apprezzano perché non sono abituati a questo tipo di gusto qua perché molte persone si vede i signori che i legumi non li so cioè ci stanno tanti di quelle cose no sugli legumi tanti di quelle schifezze di pensieri che fanno fai scurrig ecco fanno sparare ecco appunto signori ci stanno tante di quelle leggende metropolitane sopra queste cose che mangiano fagioli signori questi qui i fagioli bianchi di spagna sono buonissimi sono solitamente sono più grandi c'hanno un sapore diverso dai cannellini e gli altri così è proprio per questo che sono altri tipi di fagioli di legumi comunque sono posso assicurare che sono buonissimi e cose ah si ci stanno pure le fave però le fave non tutti quando le conosco vabbè per questo poi ci stanno pure le cicerchie i fagiolini e altre cose comunque esistono pure questi bianchi ah 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 eh so fare io la morte bianca ah 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 sono questi bianchi di spagna che comunque sono sempre buoni ora vediamo un po' di tagliali un po' a questi quattro gatti fetenti ora come caccio lo faccio a fare tutto quanto assieme un attimo tutto in diretta ora mi caccio tutto quanto un attimo solo che cacca non è tanto semplice ecco qua non capisco perché tutto quanto a loro sono più che altro sono le bucce quelle che fanno fare una grande massa fecale perché sono un tipo di zucchero che solitamente le colonie batteriche che stanno entro agli intestini vanno ghiotte non so se avete presente quanto sopra alcune confezioni tipo le caramelle c'è scritto hanno un effetto lassativo proprio perché sono dolci non proprio dolci ma sono fatti con un tipo di zuccheri di cui i nostri batteri fecali sono molto ghiotti per questo dico che li fanno riprodurre di più ci stai mangiando di più e così compagnia bella per questo dicono che hanno un effetto lassativo ma non più di tanto non mi pensate che cosa amici siamo pronti però io non capisco perché devo dare tutto quanto a voi facciamo una cosa una a te e una a me una a te e una a me vabbè vabbè sto salta l'esperimento non se lo mangio dai rumori che fa mi sa che se lo mangio il palato dei gatti non lo si può freddare se loro dicono che è buono vuol dire che pure noi possiamo mangiarceli o voleste pensare che i gatti siano più intelligenti di voi gli animali sono intelligenti per quello che devono fare non per cioè se ci vai dai un'equazione matematica ti guardano in faccia dicendoti ma che vuol da me però le cose per cui servono loro ci stanno intelligenti io non pensare che chi studia le scienze sia una persona intelligente questa è una diceria fatta proprio per i bifolchi e le stesse dicerie che pensano che chi zappa la terra sia uno scemo se io ci vuole l'arte per zappare la terra oggi sputare pure coppa ecco ho ripulito lo schermo dici non fate complipende magna 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 if so ma mi man di 시 ину magna non fate complimenti ma uno due tre e quattro l'atto grigio qui stavamo come ci stava 1 2 3 4 fatti così possiamo assicurare che stiamo lì sopra l'atto grigio ecco qua è tornato l'atto grigio eccolo la 1 2 3 4 5 ci sta pure l'atto sorella perché sono quattro rossicce così e 5 grigio poi ci sta pure quest'altro quest'altro invece tu solitamente sei il più smelmatore perché non ti metti a mangiare e vorrei fare come toffo il cane di sinergo ma tu c'erai sopra la testi chicco di riso mangio mangio comunque se non li mangio devo venire un po per vedere sempre come è andato a finire non posso stare a rovinare adesso la giornata il nostro video è troppo lungo e mangio non lo carica tutti i capelli da mangiare anche schifo sì lì andata la figlia di altri ma si capite che abbiamo fatto non so giocarla chi non si mangia questa roba non sa che cosa si perde vabbè finiamo di metterci un attimo amici non l'ho spiegato eh la conzo dove è andata vabbè a più tardi eh non è coronavirus non è coronavirus non è coronavirus allora signore volevo farvi capire una cosa guardate eh me o non ascoltate guardate allora si sono mangiati quasi tutto il riso e c'è rimasto un unico fagiolo bianco di spagna che però qualcuno mi sa che già ha zannato l'ha zannato e l'ha rimasto in dal piatto vabbè comunque pure col quarto round se non sto per schiattare qua e divento io stesso il cibo dei gatti è andato bene ora devo provare con il come cavolo si chiama uffa con il con i ceci eh eh ma però ci do un poco di croccantini perchè queste sono solo esperimenti però mi domando se in una buona alimentazione eh ci deve stare tutto quanto se non lo potevamo proprio far diventare vegani eh allora alla prossima ora signori round five siamo a cinque allora se non mi ricordo male eh stavolta è il turno dei ceci sempre con il riso io ogni tanto lo cambio questo riso non è sempre con la stessa busta comunque allora questi ceci qua allora signori i ceci sono uno delle ehm come chiamo si chiama dei legumi ehm che meglio apprezzo perchè ehm vedete l'acqua di governo no? l'acqua fava che così si può chiamare no? ehm non è tanto cioè è turbide che cose là però non mi rimane quel residuo tipo che rimangono tipo i fagioli borlotti eh che ne so i cannellini perchè questa qui è abbastanza liquida come acqua eh no perchè quando mangio tipo i fagioli borlotti i cannellini cose là no? ci devo ributtare un sacco di acqua dentro per ripulire la scatoletta perchè bisogna ripulire la scatoletta per buttarla via comunque allora tornando al fatto qua cosa ora devo provare a dargli questo qua come mangiare questa settimana qua ora vediamo se riesco a fare questa mandoracata qua di bagnare questo riso qua con la mano sola vogliamo stare riuscendo eh bagnate scendete Sioni molti che parlano tipo della soia oppure di qualche altro fagiolo particolare cosa ehm non sanno proprio cioè la soia c'ha molte cose di buono c'ha un sacco di proprietà buone della soia però non pensate che questi altri tipi di legumi siano inferiori a lei eh cioè i legumi sono buoni per tutto quanto soia e bisel come cavolo si chiama che è le lenticchie e fava ecco qua ora diamoci un attimo una rigirata io devo fare sempre tutto quanto così un attimo solo eh una rigirata perché sa da amalgamare per bene e poi vi faccio vedere che pure questo se la manieranno signori me lo sto lavando di bocca per darvela a voi eh eh gatti pizziati che non siete altri adesso quella di piccolino qui c'ha non fai sti cosi davanti alla telecamera meh meh cosa hanno gli altri te mi dici meh 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 senza scannarvi eh meh ci ha addagnato dalla sua insulsa presenza pure quest'altra cosa qua eh no no è rimasta là questa è quell'altra allora vedete questa qui pelosa eh due volte oggi si è messa nei guai ecco qua scing 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 ecco qua quella più umida che stava sopra e come stava non lo mangono adesso quella più umida che stava sopra ma deve bagnare per bene quelle lì i chicchi più secchi che servono sotto e qui poi c'è rimasto questo che devo mangiare io sto dividere con i miei sottoposto signore l'acqua farba tipo quella lì dei ceci è buona per farci le meringhe sì ehm le meringhe vegane tanto per farvi capire ehm amici vai a mangiare sappiamo tutti quanti che siamo tutti quanti animali come diceva in da Zotropolis quella specie di padrino cosa la comunque se lo mangiano guarda quella sta leccando pure la testa di quell'altra vedete questa qui più grande eh una icca questa è quella che si mangia i serpenti chiacchiappe i serpenti che ha fatto i video che poi ci ha fatto i video sneak here ehi ter ehi ter ehi ter ehi ter ehi ter vabbè non sono dato tanto buono la pronuncia in questo ma ehm ehm tanto non so ma anche se arriva domani non è coronavirus comunque ehm ehm patatunzo vai a mangiare ehm dai patatunzo ehm muciate ma vai a mangiare pure tu ehm patatunzo tu sei talmente pizzare che vuoi solo i croccantini allo che ehm comunque ehm tra non molto devo tornare mo devo lasciarti un poco così perché stanno mangiando per non far fare il video troppo lungo sto inquadrando bene sì torno te un poco per muovare a mangiare io no? per vedere un poco come è ne sta la situazione tanto allora ti darò i croccantini a te patatunzo mangi mangi eh no micio micio eh se si riesce a inquadrare senza farmi cascare quei poverici che ci sono rimasti eh eh se qua eccolo come è va a mangiare va darvi il cambio per mo stacchiamo a dopo non ecco non è giusto signore comunque se lo so se lo so finito di mangiare se lo so mangiare abbastanza ma sono tornato io stanno incominciando a mangiare ancora se io non ho fatto trucchi non ho fatto inganni mi è stato un poco zitto ma dov'è patatunzo non è che andava in casa quello non è che andava in casa quello non c'è la miseria su quello mondo si andava solo parlando qualche mobile e cose mannaggia ma l'aveva impiassa tutto quanto con la sua dolce tenera eh eh con i suoi ricordini con la sua dolce tenera acquafava la sua boccuccia di rose comunque mo ci devo dare i croccantini perchè io da solo non decido niente questo era soltanto un esperimento mo se ha il mio supervisor ci va bene questa cosa vediamo di procedere a vediamo di sparmiare qualcosa di soldi se queste cose sono belle da accarezzare cose però faccia le patate scavolate che si consumano consumano cacole 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 dove sono andati a finire gli altri ah è proprio questo altro si è appiccicato questo eh gli altri dove sono vabbè cominciamo con voi eh eh amici andate eh comunque abbiamo a staccare eh io non devo far vedere che i croccantini devo far vedere che la cosa funziona tani saluti e voi dopo alla prossima non è il coronavirus comunque signori siamo arrivati al round 6 fight allora signori questa volta ci diamo il pomodoro per l'atto insieme con il riso il riso cioè il riso col pomodoro praticamente praticamente sta facendo la pizza al riso la pizza possa essere fatta con la pasta cosa la 00 01 02 come si chiama come si chiama sta facendo riso soffiato con il pomodoro questo è quello che mangio solitamente io c'è rimasto qualche fagiolo dall'ultima volta va buono lo stesso allora vediamo un po' se questi se lo mancano amici questa è roba mia eh visto come vi tratto bene eh questo qui è un cibo costoso mica ci stanno tutti ci mancano sempre qualcuno eh ecco qua aspiro è solo pomodoro eh la maggior parte è pomodoro e riso eh buono mangiate eh ma doncio tu sei troppo signore per mangiare questa roba eh tu vuoi roba più costosa ma no no eh poi se lo mangio la se lo mangio mi sta un po' con la cassetta ci sta la fatta cattaccia ma no andrà già la miseria eh tengo qua ecco qua come c'è tutta la macchia lì eh fa tonzo tu non vai un po' devo fare un po' di pulizia qua 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 devo fare un po' che si stima la roba ma 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 sicuramente parlando come si chiama mi pare che l'esperimento sia riuscito mi dice non mi litigate da di voi eh litigatevi per me ma 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 penso che vabbè veniamo più tardi a vedere come sono andate le cose più tardi allora signori il riso col pomodoro sono fatti fuori quasi tutto quanto cioè no è venuto buono eh quello c'è ancora un chicco fai vedere mish 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 un chicco di riso sul naso allora per me cioè vuol dire che l'esperimento per me è riuscito cioè mo che altro ci sarebbe da fare se come ho detto ci stanno i piselli però come cavolo si chiama già feci un video in cui se li mangiavano sono minuti che mi aveva da prendere un'altra scatola ai piselli poi ce la dare a loro comunque poi il resto lo racconta a voce eh mo stacchiamo e sì mo ci devo dare un poco di croccantini perché non tutti quanti li sono andati a mangiare cose questa è soltanto per far vedere che funzionava è solo il video di partenza eh tanti saluti e votiamo per adesso poi devo fare eh devo dire il resto a voce mish 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 no e non è colonna vius allora signori extra round questo qui è quel tipo di pasta che di tre colori che mangio io che ho fatto pure un video tutorial cioè che l'ho messa a confronto con la pasta normale che bisogna cucinare ho fatto un video a parte che lo metto in descrizione comunque quello che volevo fare per vedere ora ci proverò a dare questa qui ai gatti, questa è solo pasta, l'ho bagnato con l'acqua normale così poi ne ho pigliate dell'altra che ho bagnato invece con l'acqua fava, lo farò vedere dopo sai se le cose vanno bene, comunque questo qui l'ho bagnato per bene, ho dovuto farla ammorbidire per bene perché se no in modo che non fosse, perché questa è stata cotta, poi è stata essiccata e poi è stata commercializzata è come i noodles, soltanto che questa costa di meno ora ci darò questa qui ai gatti, vediamo se solo così se la pigliano perché con l'acqua fava è sicuro che se la pigliano così però se con l'acqua normale vediamo subito se la pigliano oppure no ecco qua i miei gatti che stanno aspettando di mangiare non mangi, perché io ce la devo dare tutto quanto a loro mmm buono, buono, abbastanza, via cazzo questa la mangio pure normalmente così no ci mancano alcuni gatti pensavo che non ce la mangiassero così su spandolo, però invece si non è coronavirus per nessuno dei due comunque lo stacco, vediamo un poco più tardi come andare a finire vai non è coronavirus allora signori non so se avete presente il videogioco street fighter 03 non lo chiamo alfa perché alfa lo chiamano i perdenti street fighter 03 con i nomi giusti al posto giusto non lo scambiate per volontà di qualche gaijin allora signore comunque non so se avete presente quello la metto in descrizione se lo trovo eh ci sa la battuta finale quando uno deve fare il round finale no? che si mette a dire proprio final round poi facevo la battuta dopo quando uno perdeva il perfect no? HAI PERSO PERFECT quello lì di prima dell'ex round l'hanno finito di mangiare stanno finendo di proprio non c'è il trucco non c'è in canno mo ci do questo qui sembra la stessa pasta no? però bagnato con l'acqua fava con l'acqua fava dei ceci e delle lenticchie e devo sottolineare che quella era un poco salata poi ehm che questa è la marca qui la fa un poco salata comunque ha insaporito per bene ma io non mi non mi capacito che si sono mangiati pure quello con la semplice cioè si sono mangiati pure la pasta con la semplice acqua normale cioè io pensavo che non sarebbero mangiati invece si sono mangiati mo con l'acqua fava sarà anche meglio allora ehm qui ce l'ho detto ci ho messo due scatolette cioè due acqua il contenuto di due scatolette ehm una di ceci e l'altra di lenticchie e di acqua quello dice ehm sgocciolato cioè peso ehm peso intero ehm quattrocento grammi peso sgocciolato ehm duecento quaranta grammi mo ehm quattrocento meno due sempre duecento centottant cento sessanta grammi di acqua l'uno più l'altro è cento sessanta grammi facciamo non proprio cento sessanta diciamo sui cento grammi l'uno cento grammi in alto di acqua salata e ehm di fava però perché qui in quell'acqua di fava ci sta pure un po' del residuo di tutte lo scatolami non è soltanto dell'acqua salata ci sta pure che ne so uffa ehm quella fava che ci sta pure il glutamato che da la quella sensazione di umami ci sta ci sta un sacco di cose comunque queste cose si facevano perché con l'acqua fava si fanno pure le meringhe ehh ehm le meringhe vegane allora praticamente ora sto a ronzare cose a quelli per poter dare e mangiare a questi qua ora vediamo un po' di non fare i macelli eh ci sta ancora un po' di acqua non so se si riesce a vedere si bereranno proprio questo ora però si leva un po' leilton limaroni ma 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 mi ma 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 dove stanno gli altri lì quello lì è il micio medio no perché c'è uno più grosso rosso quello è il micio medio ce ne sta uno più grosso rosso questo è quello piccolo che sta quello è quello medio o no no è abbastanza grosso forse proprio quello grosso grosso se è quello grosso grosso e penso proprio di sì no dovrebbe essere il padre di questa qua se non ho capito male se invece quello medio ma non penso che sia quello medio questo che codone che tiene questo mi guarda che me la sono levata di bocca per voi se li mangiare i miei mannaggia voi come stanno mangiando quella che è stato sento prima come mangiare capito e benessa voi non mangiate ma guarda cosa sarò di ora vabbè sarebbero diventato comunque ecco qua un'altra dimostrazione che il come cavolo si chiamano attenzione e ancora un'altra dimostrazione che i gatti si possono fare diventare vegano io comunque ci mancano alcuni stanno rimasti via non capisco che il mio mangiare lo devo dividere con voi vabbè che siamo amici amici però che caspita io sono sempre il signore e voi siete i sudditi ma fatemi staccare torno sempre più tardi per vedere quando c'è rimasto di quello che c'è rimasto di quello che io da stacchiamo la carrellata di gatti quello pure di starsene così si sta facendo scicchiacciare vabbè non dice niente che c'è micia mi vuoi bene lo so che mi vuoi bene signore questa è una gatta che mi salta sopra la schiena porca miseria in maniera incredibile non mi fa fare niente ci ha girato in mangiare questo vuole le cocche mici io non posso stare presto tanto a te ci sono tanti altri mici come te non so se l'hai capito e beh fammi la fatica fammi la fatica fammi la fatica e io fai a posta e che caspita e io fai a posta e che caspita e io fai a metterà lo so che mi vuoi bene ma io voglio bene a te ma non chiamami più è un bordo tu disperatamente mi ensame vabbè basta così vabbè sta dimesso mangiare ahahah e vai oh am해� tu vuoi bene tu vuoi bene tu vuoi bene tu vuoi conexi ti vuoi bene tu vuoi bene tu vuoi bene tu vuoi coinci ti vuoi bene tu vuoi bene ti vuoi ob нужен ma che cosa però l'hai capito non Grazie.